Com'è? Dov'è? Alla prossima! Come stanno facendo la rottamai? Stanno insaccheggiando! I nuovi colleghi? Sto sulla nuova cifra! Ieri ho parlato con la dottoressa Albertini, PM della procura di Milano, che ha aperto un fascico, questo è speciale perché mi ha confermato. Aspettiamo a giorni che si convochi perché personalmente mi ha detto, mi lascio organizzare perché abbiamo delle notizie, delle informazioni da integrare qualora la dottoressa ne sopporti. Stiamo parlando della procura di Milano, PM, Mula, Albertini.